Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Allora, prima di partire dal presupposto che ho cambiato inquadratura, forse si vedrà in pratica ho preso un mini trappiedi, quindi è più inquadratura rispetto al solito più alzata. Però vabbè, bentornati in questo nuovo video. In questo video vi andrò a parlare del campo scuola in pratica, perché secondo me è giusto che siate informati su quello che ho fatto e la mia assenza per una settimana da YouTube. Ci sarà da ridere perché ci sarà da ridere, fidatevi. Quindi direi di incominciare con il connello del video, quindi direi di iniziare. Possiamo dire che tutto cominciò sabato 6 luglio, non so, non mi ricordo a che ora, però ci siamo imbarcati in pratica. Abbiamo preso l'autobus che faceva il tragitto Padova a Bergamo. Siamo arrivati a Bergamo di sera, sì di sera, e siamo arrivati al campo scuola. Subito, appena arrivati, ci hanno suddiviso nelle camere. La nostra camera era da cinque, eravamo in cinque camere nostre. In pratica tre letti e castello, solo che un letto non era occupato. Un letto non si usava, abbiamo messo il proprio letto, le valigie, le borse, e da lì è cominciato tutto, in quella camera. Poi va bene, non vi sto a spiegare i giochi che abbiamo fatto, va bene, abbiamo cenato, poi abbiamo fatto gioco serale e poi siamo andati nelle camere. Prima notte, non vi spiego neanche quello che abbiamo fatto in pratica. Fa conto che avremmo finito verso le 11 e mezza di far tutto, quindi siamo andati nelle camere verso le 11 e mezza, e quindi verso le 11 e 40 ci dovevamo addormentare. Ma secondo voi, alla prima sera, 1 alle 11 e 40 si addormenta? Eh no! Facciamo le cose fatte bene, rimaniamo svegli. Abbiamo parlato, gli animatori avevano detto che di stare, che potevano stare svegli, ovviamente, non fin troppo però, non facendo casino. Ricordate, ci siamo ricordati queste parole? No. Io ho fatto un casino ragazzi, che non vi potete immaginare. E' arrivato il dono, che era arrabbiato, però va bene, ci sta, perché abbiamo fatto troppo casino. Abbiamo tenuto i svegli tutti. Dopo sono stati zitti per un po' finché non ce ne sono andati, perché gli animatori dovete sapere che a fine giornata facevano una riunione e stavano via verso le... tornavano, rientravano nelle camerate dalle... l'orario era dalle 2 alle 5. Quindi là eravamo da soli perché il dono si andava a letto ovviamente e dormiva e quindi... potevamo parlare piano però. E quindi siamo stati svegli fino alle 3 e mezza barra 4, ci siamo svegliati alle 6 e niente. Prima notte è andata una catastrofe. Ah, mi sono dimenticato di dirvi che ovviamente al campo scuola non si possono portare né telefoni, né cibo, né cibo. Non si può portare il cibo. In pratica noi avevamo il punto. Avevamo un pacco di caramelle. Biscotti. Altre caramelle e altre caramelle. E poi ovviamente per non farci mancare niente ho portato un litro e mezzo di coca cola. Ovviamente siamo stati scoperti. Beh, ovviamente è stato bruttissimo essere stati scoperti. Però per fortuna che non abbiamo preso nessuna punizione. Non siamo puliti in punizione. Quindi la... perfetto. Poi andiamo avanti. La mattina ci svegliavano ovviamente. Facciamo un bel riscaldamento. Pulito, pulito. In pratica facevamo... avevamo una specie di sentiero in impendenza, possiamo dire. Avevamo un'altura che dovevamo correre in salita. Facciamo una volta su, una volta giù, una volta su, una volta giù. Quindi due giri possiamo chiamarli, sì. E poi andavamo a fare roba tipo stretching, pressioni con le robe là. Poi ovviamente colazioni. Colazioni. Perché colazioni? Colazioni. Poi c'era il gioco della mattina. Ah, mi sono dimenticato di dirvi che il secondo giorno, quando siamo arrivati lì, ci ha fatto fare l'escursione. Lì per me è stata una tragedia. Una tragedia. Perché ovviamente da intelligente mi ero dimenticato la borraccia e quindi non avevo acqua. per fortuna che il mio amico Renato, che di sicuro voi lo conoscerete, perché credo che, anzi, non so. Però sì, sì, di sicuro ho fatto un video qua, nel canale. Quindi non so se lo conoscete o no. Se lo conoscete, scrivetelo nei commenti. E in pratica sono stato osservato da lui perché mi ha dato mezzo litro d'acqua. Visto che lui aveva un litro. Due bottiglie da mezzo litro mi ha dato uno. Però ovviamente non è bastata. perché abbiamo fatto 30 chilometri, più o meno. Siamo arrivati alla meta, stabilita, abbiamo mangiato. Poi abbiamo fatto il giro della montagna sulla cresta. E io che soffro di vertigini. E andavo alla velocità di un bradipo. Non sto scherzando, ero rimasta indietro. Avevo paura. Facevo un passo, poi no, no, non ce la faccio, non ce la faccio. Un altro passo. E si è andata così. Per tutto il tempo. Per tutto il tempo. Poi se non sbaglio, il terzo o quarto giorno mi sono sentito male. E non so perché, proprio in quel giorno, anche il mio compagno a distanza è stato male. E sono stati male, punto e basta. Tanto male. Vi dico, non specifichiamo. Poi, ah, c'è da dire una cosa. Sempre il terzo o quattro giorno hanno montato un campo da calcio tennis. Sì, calcio tennis. Ci abbiamo fatto qualche partita. È stato davvero, davvero divertente. Vabbè, arriviamo al quinto giorno. Vabbè, non vi sto facendo un raccolto molto dettagliato, ma poi vi spiegherò in pratica come si sviluppavano le giornate a fine video. Quinto giorno. Se arrivate al quinto giorno, no. Serata horror. Tutto è iniziato con, come posso dire, con un finto litigio degli animatori. E già lì, non so perché, perché non aveva senso, ma io mi avevo già iniziato ad aver paura, perché sapevo che ci aspettava qualcosa di tremendo. Beh, tremendo, non possiamo chiamarlo. Però vabbè, ovviamente passa la giornata, ceniamo e c'è il solito, aspettiamo il gioco finale nell'altro. Sì, chiamiamo l'altro, dai. E di solito c'erano qualche animatore. No, no, non c'era nessuno quel giorno. Non c'era proprio nessuno. Quindi io vi giuro che avevo la tachicardia. Avevo il cuore che faceva, che si sentiva proprio. Avevo anche il respiro affannato. Potete? Il respiro affannato. Potete capire quanta paura avevo? Poi ci hanno portato sui gradini e ci hanno raccontato una storia che non mi dovevano raccontare, eh. Eh. In pratica eravamo in questo hotel, perché era un hotel che era chiuso da tre anni, aveva tre stelle. Era un hotel che, possiamo dire, cadeva a pezzi. Però è stato divertente, sì. È stato divertente. Però sono stati bravi a fare la serata horror, perché tipo dal secondo barra terzo giorno avevano iniziato a fare impronti sui muri, dicendo che erano certe impronte con pitture, dicevano che erano sangue, certe impronte con la farina. E poi la serata horror ovviamente era piena, proprio tappezzata. Io avevo paura di andare in giro da solo nei corridoi. Era qualcosa davvero di tremendo, potete immaginare. Poi arriva la sera, fa conto verso le otto e mezza, nove, ci mettono nei gradini e ci raccontano, ci raccontano sta storia. In pratica c'erano due animatori. Me le stanno raccontando. Anzi, uno era lì, perché, dopo vi dirò perché era lì. Stavo raccontando, tipo, adesso ve la provo a raccontare, che in pratica... No, non ve la racconto perché mi fa male il cuore solo a raccontarla, vabbè. Poi se immaginate che era una storia horror, che c'era la gente che piangeva. E non qua non voglio giudicare nessuno perché anche io stavo per piangere. Ma non ho pianto, però avevo tanta, tanta paura. Tanta paura che dopo mi dico. Allora, ci ho finito di raccontare, sto con l'altro animatore che finora non avevo detto niente, ricorda la storia, tra virgolette, sviene. Poi parte. In pratica c'erano sei animatori vestiti da zombie. Erano vestiti bene, facevano una paura, una paura, però io, perché ho visto che avevo paura, volevo sdrammatizzare le cose. In pratica ovviamente le sono portate... Proviamo a non romperla. A fine video andavo in giro così. Adesso vi faccio vedere. Facciamo così. Bella a tutti ragazzi e ragazze che vengono anche in questo nuovo video di cacciatore di cavolate. Abbiamo un esemplare di zombie qua. Dai, ci facciamo una bella foto. In pratica ho passato tutta, tutta, tutta la serata a fare così. In pratica il gioco non è finito perché nessuno ha trovato l'antidoto che in pratica faceva vincere. Nessuno l'ha trovato perché nessuno si è impegnato, era troppo divertente. Talmente divertente che si devono fare la preghiera. Guardo così, vedo che i miei pantaloni sono bagnati. Provo ad annusare. Mi puzzavano. In pratica mi ero fatto la pipi addosso. In pratica io dicevo di non aver paura. L'ho stato smentito. Vabbè, ci sta. Arriviamo all'ultimo giorno. L'ultimo giorno, vero e proprio. Ah, sì, sì. Mi ho fatto tipo ciao Darwin, fatto male, proprio improvvisato. Proprio alla mia cugina. In pratica eravamo suddivisi in due squadre. Ognuno doveva fare scenetta, ballo e altri giochi. È stato davvero fighissimo, raga. Però, vabbè, adesso vi racconterò come si sviluppavano le giornate. In pratica sveglia alle sette e mezza con tanto di musica alta. E già lì fidatevi che vi arrabbiavate un botto. Perché te stavi dormendo lì tranquillo? Senti sto casino? Proprio la vita da prendere a calci. Va bene. Andavamo a un riscaldamento. Balletto che... Oh, io non c'è stata mai una volta che ho ballato sul serio. Poi, colazione. Colazione facevamo la preghiera dopo colazione con tanto di scenetta, la perla. Ah, mi sono immediato. Andate a seguire l'animatore più figo del campo a scuola. Henry.com.anzi. Mi raccomando. E anche polato.tartinovasso. Tutti quanti. Tutti. Se volete essere salutati nel prossimo video, dovete andare sui loro profili Instagram a commentare la... loro foto con hashtag Alberto e verrete salutati nel mio video. Mettendo tra parentesi questo, dopo la preghiera, che era qualcosa di leggero. Ne facevamo abbastanza, tipo la mattina, il pomeriggio e la sera, però erano belle, perché è un don che è molto simpatico e proprio ti fa anche una messa di due ore. Te la fatti può sembrare di venti minuti. Proprio un don che è poi anche molto simpatico. Va bene. Facevamo dopo finita la preghiera l'attività didattica. Il gioco, poi il pranzo, sì, io dopo avevo un pranzo. C'erano dei lavori assegnati per ogni squadra dovevamo farli. Poi avevamo tempo libero, più o meno due ore di tempo libero. Finito il tempo libero c'era l'attività didattica, i giochi. Poi andavamo a fare sempre una preghiera. Dopo la preghiera ci andavamo a fare la doccia. Dopo la doccia cenavamo. Dopo la cena andavamo... Cosa facevamo dopo la cena? Dopo la cena c'era il gioco notturno. Andavamo in camera prima. Prima andavamo in camera. Ce lavavamo i denti. Ci vestivamo e c'era il gioco notturno. Poi preghiera. E alla fine si dormiva. Sì, credo di avrei detto tutto. Tutto giusto. E vabbè, ci vediamo nel prossimo video. Ah, prima di tutto vi spiego perché ho detto nell'ultimo video ci vediamo domani ma poi non sono riuscito a caricare il video perché mi ero dimenticato che il giorno dopo mi venivano i pittori in casa. Poi sono stato impegnato. Non so perché in questo periodo sono davvero impegnato. Non trovo mai... Ah, c'è della gelatina sulla scrivania. Vabbè. Non trovo mai il tempo per fare video. Però vi dico una cosa. Ho appena comprato su Amazon. Una cosa bellissima. Vabbè, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.